Ha scoperto di avere un cancro allo stomaco, ma trova nuovi stimoli e la forza di combattere grazie al cibo e alla cucina. Si chiama Natasha Grindoli, 37 anni di età, provenienza inglese, ha cambiato i suoi abitudini alimentari e ciò l'ha aiutata nella malattia. I medici non credevano che riuscissi a reagire bene, ma erano ottimisti nemmeno per la riuscita in modo piacevole a stupirli. Io non mangiavo molto cibo da sforzo, bevo alcolici, forse anche questo ha favorito gli storici del tumore, ma adesso sono cambiata. La donna non solo ha imparato a cucinare in modo sano e giusto, ma ha deciso di fare da cucina una opera pia nel senso proprio del termine, ossia di dare una ragione alla sua vita grazie al cibo. Sperimentata nuove potrebbe farsi crepiente, quindi io termina qua. Un saluto da presto. Grazie a tutti.